Noi dovevamo meccare quei due, vai! Noi dovevamo meccare, 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 vai! Noi dovevamo meccarATE, vai! Noi dovevamo meccare, vai! Grazie per la visione! 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 Grazie! 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 con Jason medaglia, ha solo una scuola. E' una scuola, con directora. Dobro togo. Ho aspettato che sia bene, ma non è così. C'è un'esplice. 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 Grazie a tutti. 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 Yeah. 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 Grazie